Bentornati Cagnoni Maledetti sul canale che parla di voce, doppiaggio, adattamento dialoghi, di comunicazione e ora voglio farti una domanda e scrivi qui sotto nei commenti. Hai mai notato in un doppiaggio una voce caratterizzata che cambia nel tempo? Prima di tutto, cos'è una voce caratterizzata? Non è la voce che utilizzo normalmente, non è la voce normale, diciamo così. È proprio quella voce che ti dicono, fai il doppiatore, fammi le vocine. Inteso, non sono solo le vocine leggere, ma potrebbero essere anche quelle più grosse. Insomma, tutte queste voci che, adesso avrai capito, non sono quelle normali nel range del parlato standard. Hai mai notato che un personaggio nel tempo varia lievemente voce? Non sto parlando di cambi di doppiatore o di doppiatrice, ma della stessa caratterizzazione, adesso sai cosa significa, che varia nel tempo. Ci sono doppiatori che hanno già dei loro cavalli di battaglia, magari persone che anche a scuola facevano le vocine e quindi quando devono utilizzare una voce particolare vanno già sul sicuro e utilizzano quella voce che è magari un'imitazione di altri doppiaggi, di altri personaggi. E quindi questi doppiatori hanno già delle voci standard, delle vocine standard dei cavalli di battaglia, diciamo così. Questo è fantastico perché avere già dei riferimenti vocali e propri occettivi solidi significa per la voce non sforzarsi particolarmente, vuol dire entrare in dei binari che sono già sicuri, hanno un loro percorso, quindi non mi sforzerò particolarmente per fare quella voce. Ma non sempre quella voce, quel cavallo di battaglia è adatto per quel terreno di battaglia. Possiamo evitare i termini un po' guerrafondai? E quindi sarà richiesta una voce che si discosterà da quei binari, da quello stampo. Proprio in queste occasioni succedono i fastidi maggiori, le difficoltà e gli sforzi vocali maggiori. Perché in automatico si tenderà a ritornare verso quei binari, abbiamo detto, quelle comodità, quelle proprie eccezioni che ci sono comode e che fanno andare il nostro organismo in automatico. Ma non è ciò che ci richiede magari il direttore, il personaggio che dovremo andare a doppiare. Quindi cosa fare? Dovremo creare una varietà di binari paralleli, insomma, che si avvicinano a quello che per noi è il nostro punto forte. Quindi abbiamo tre modi. Uno, il nostro cavallo di battaglia è quello che useremo sempre e lo proporremo senza alcuna variazione, virgola, senza discostarci mai da questi standard stilistici. Due, ogni volta dovremo ricreare il personaggio. Quindi, ah, aspetta, era leggermente più nasale, era leggermente più basso, era leggermente più così, cos'ha? In questo caso ci sarà d'aiuto avere un riferimento audio, e il fonico è lì per questo, fornito dallo studio che ci dirà, guarda, tre settimane fa, sei mesi fa, quando si è conclusa la serie precedente, stavi facendo questa voce. Ascoltala, provala ora, e no, era un po' diversa, era un po' più bassa, riprovala adesso, e no, era un po' più nasale, riprovala adesso, perfetto, era uguale a quella di sei mesi fa. Ora, mantienila, almeno per questo turno, cioè per queste tre ore. Vedi che non è sempre così semplice, perché se non è un automatismo o se non è una voce comoda, allora ricreare e mantenere quella voce diventa un po' complicato, e stiamo parlando solo dell'aspetto vocale, non stai ancora recitando e andando a sync. Oppure, tre, è del metodo che insegno io, ad esempio nel mio corso di caratterizzazione, guarda il link qui sotto, il primo in Italia che ti insegna queste cose, devi crearti una scala di valori, e in base a quella scala di valori saprai quale intensità dare alle varie strutture pneumofono articolo risonanziali che entrano in gioco quando fai le vocine. Quindi il mio consiglio è non focalizzarti su delle voci e basta, ma esplora al meglio ciò che ogni struttura, in particolar modo quelle risonanziali e sovraglottiche, ti possono permettere di dare. Una volta che avrai dato dei livelli alle varie strutture, bene, fissali, magari con delle immagini mentali, magari con dei riferimenti, o anche attraverso l'ascolto di un audio del passato, bene, in questo modo saprai ricreare più facilmente e più velocemente in studio quello che avevi già fatto due settimane prima, dieci mesi prima, o alle volte anche di più. Ovviamente devi mettere il mi piace, la campanellina, il salva, perché ti puoi perdere dei contenuti molto interessanti qui sui podcast, sul blog, sul mio sito www.rivettivalter.com e quindi perderti delle belle occasioni per migliorare la tua voce, perché tu usi al meglio la tua voce.